Oltre agli arresti la DIA sta eseguendo anche un congruo sequestro di beni, in cosa consiste? Diciamo che è un importante sequestro di beni, parliamo di beni per un valore di 35 milioni, in questo caso sono i beni dell'imprenditore Pergolizzi Vincenzo, i quali erano stati restituiti qualche tempo addietro perché era riuscito ad avere la soluzione per l'attività di prevenzione che gli era stata posta dei beni. Abbiamo registrato in questa indagine come l'imprenditore attraverso degli artifici o dei presunti crediti inesistenti da parte di familiari o dipendenti delle società ha allenato o dato come contropartita i propri beni svuotando le casse. Oggi anche in queste dinamiche è stata fatta piena luce da parte della direzione investigativa antimafia che ha svolto delle indagini capillari accolte pienamente dalla procura che ha emesso un decreto di sequestro dei beni che attualmente è in corso.